Guarda tuo padre com'è contento di averti a casa con lui! Che vuoi? Restare qui a fare niente per tutta la vita? Temporaneamente! Spoli! Papà! È un bell'uomo, tuo figlio. È sposato? Ha un figlio non circonciso con una ballerina, Goy. E chi è, Carlo? Quello che viene a dormire con mamma. Chi è questo nazista? Dove l'ha trovato tua madre? È nervoso perché soffre per amore! E fra tre settimane tuo figlio troverà un lavoro, una bella ragazza e, soprattutto, se ne andrà via da casa tua. Volesse il cielo, rabbino, volesse il cielo!